Fino a fine emergenza Covid-19, il numero di prima assistenza domiciliare 331-66-01-621 del Comune di Agropoli sarà gestito dalla Croce Rossa Italiana Comitato Agropoli e del Cilento. Queste le modalità di richiesta per pacchi alimentari o consegna farmaci. Per richiedere il servizio consegna farmaci oppure pacchi alimentari bisogna inviare un messaggio WhatsApp servizio attivo H24 oppure chiamare i giorni dispari dalle ore 15 alle ore 19. Il messaggio deve contenere le seguenti informazioni. Per il servizio consegna farmaci sarà necessario comunicare nome e cognome del paziente, età, indirizzo o frazione, città, numero di telefono, medico curante, farmacia in cui ritirare i farmaci, eventuali note particolari. Si ricorda di inviare la richiesta quando la prescrizione del medico si trova già nella farmacia scelta. Per la richiesta pacchi alimentari sarà necessario comunicare nome e cognome del capo famiglia, nome e cognome della moglie o compagna o convivente, indirizzo e frazione città, numero di telefono, numero del nucleo familiare, compreso i minori, numero ed età dei minori. Sarà importante segnalare eventuali bisogni particolari, pannolini, omogenizzati, latte, bambini, eccetera, oppure eventuali patologie alimentari come per esempio diabete, celiachia. Il messaggio che dovesse essere mancante di una di queste informazioni, maiuscolo, non sarà preso in considerazione. L'inoltro del messaggio di richiesta del pacco alimentare autocertifica di non essere in grado di sostenere se stesso e il proprio nucleo familiare, pertanto i dati inoltrati per le richieste hanno valore di autocertificazioni. Per questo motivo notizie mendaci possono avere conseguenze penali.